Betlemme, casa del pane in ebranico, tempo di Natale quando Betlemme giunge nei presepi delle case. In ogni casa ci dovrebbe essere un presepi, un'attività, una mangiatoia, presepi. Siamo venuti nel presepi di Cumanoset a Canosa di Puglia perché tempo di pastori, quando i pastori approdavano a Canosa di Puglia sul Reggio Tratturo nella Transumanza d'Almorise. Una delle principali locazioni, dice l'archivio storico comunale di Canosa, era Canosa, i pastori sono approdati qui. Le nostre mamme, la buonanima di mia madre, Maroset, dicevano in questo tempo, Peppi, Peppi, ora passano le ceramelle. Lo stesso Giovanni Pascoli scrive nella poesia udita al sonno le ceramelle, la ceramella, la ceramedda è la canna degli zampognasi. I pastori della Transumanza approdavano a Canosa, sul Reggio Tratturo acciottolato, con questo bastone, la piroccola, in forma di pera, un begnasco che stai presente, diceva, la parocola, e porgevano una melodia natalizia che vogliamo porgere, non abbiamo le zampogne, ma abbiamo la riorente, organetto, una melodia natalizia che dedichiamo da Canosa di Puglia, con gli amici che stanno realizzando questo percorso, Sabino Mazzarella e Bartolo Carbone. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ero bambino e imparai questo a orecchio davanti al presepe di Casalia di Cartone, quei presepi che oggi ci siamo fermati qui e da questo presepe di Casa di Canosa vogliamo rivolgerci verso la Terra Santa, verso Betlemme, il luogo più sacro al mondo in questo periodo, in cui vogliamo rievocare una nenia natalizia che è la radice napoletana, linguistica, filologica, di Tuscenti dalle Stelle, composta da Sant'Alfonso Maria di Riguri. Questo canto è stato cantato a suo tempo dalla grande Mina, noi non sappiamo, vogliamo essere a livello, però vogliamo evocarlo. Il canto dice quando nascette Ninno. Poco fa mio figlio dal Veneto che ha studiato lo spagnolo diceva Davide che significa? Ninno, papà, bambino. Noi diciamo Um Nin, il mio nigno, il mio bambino. Quando nascette Ninno a Betlemme, era notte e parea mezzo luorno, mai le stelle lustre belle se vedettero così e a più lucente gli età chiamati ma le stelle c'era a più lucente i magi. Quando nascette Ninno a Betlemme, era notte e parea mezzo luorno, era notte e parea mezzo luorno. Ma i miei stelle lustre belle se vederò così e a più lucente gli età chiamati Che questa stella vada anche a chiamare voi, bussi al nostro cuore e ci porti tutti a Bettenebre. Buon Natale!